Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Angolo, palla canestro, la partita della settimana dell'LBA era ieri sera, Treviso contro Virtus Bologna. Il punteggio finale, lo sapete tutti, clamorosa vittoria della Virtus da un punto di vista numerico, 100 a 61 il punteggio. Dopo una gara che nel primo quarto è stata anche divertente da un punto di vista dell'equilibrio perché Treviso ha saputo reagire al break iniziale di Bologna che sembrava già aver inquadrato la partita. Poi però, nell'arco dalla seconda metà del secondo quarto, la Virtus ha messo un'accelerazione di quelle che spaccano tutto, ha allargato il margine di vantaggio sopra i 15 punti e poi ha controllato la sfida con un secondo tempo giocato a livelli altissimi, soprattutto il terzo quarto, mentre nel quarto quarto ha dato ampio spazio alla panchina, portando a casa una vittoria molto importante che mette la squadra di banchi al secondo posto, una sola vittoria di ritardo rispetto alla capolista. Brescia l'ha fatto molto bene perché è andata a vincere chiaramente sul campo di Napoli, il risultato che devo dire un po' mi ha sorpreso. Non mi attendo francamente Brescia protagonista fino alla fine della stagione, o in grado di dire la sua per la lotta per i titoli della stagione, però devo dire che sta durando parecchio l'ottimo momento della formazione guidata da coach magro. Tanti complimenti alla Virtus per questa partita perché ha ancora una volta dimostrato la capacità di testa e quindi la grande guida dei coach banchi che per me è coach of the year in Eurolega, coach of the year in campionato senza nessun dubbio, anche se lì ovviamente coach magro può avere i suoi argomenti per competere con lui, ma il lavoro che ha fatto proprio in queste partite, devo dire la chiarezza con la quale la Virtus va a vincere una partita come quella di ieri sera, sul campo di Treviso, squadra in lotta per non retrocedere, squadra che devo dire per quello che ha fatto vedere ieri ha pochi argomenti per poter essere competitiva nella lotta per salvarsi, però devo dire anche le sue rivali, Pesaro che con coach Sacchetti non riesce ancora a ingranare, piuttosto che Brindisi che abbiamo visto qualche settimana fa a prendere a Bologna una sconfitta similare, non paiono essere due avversarie particolarmente più in forma rispetto a questa Treviso. Ho sentito poi peraltro, l'avrete sentita magari tutti, la conferenza stampa di coach Vitucci del dopo partita, un po' di nervosismo con i giornalisti, con uno in particolare che gli parlava delle voci fantomatiche di dimissioni o comunque di cambio della panchina, di licenziamento del coach, Vitucci è piuttosto nervoso, ha detto che non ha intenzione lui sicuramente di dimettersi perché ha perso di 40 punti contro una squadra così forte come la Virtus e su questo sono d'accordo, però d'altra parte bisogna dire che non mi è piaciuto per niente, e penso non sia piaciuto a nessuno, soprattutto ai tifosi trevigiani, un po' l'anello sacrificale, un po' come ci si è offerti, quasi senza combattere, alla netta superiorità della squadra bolognese che peraltro ha vinto a livello, il ponteggio della gara l'abbiamo detto, 40 punti di scarto, a livello di valutazione è finita 34 a 143, quindi qualcosa di veramente una partita giovanile, sembrava quasi. La Virtus ha tirato con l'85% da due punti, sbagliando solo sei conclusioni su quasi 40, 40% da tre punti, e tutti i giocatori hanno come capita in queste circostanze offerto una buona prestazione e soprattutto la cosa positiva per Coach Banchi è stata quella che deve essere l'obiettivo soprattutto per queste gare di campionato, qualcosa che per esempio a Coach Messina e all'Olimpia riesce molto di meno, ovvero vincerle dando la possibilità, però poi anche ai giocatori chiave, quelli che poi hanno l'impegno anche europeo in Eurolega, di riposarsi. L'utilizzo del minutaggio di Eli, di tanti protagonisti è stato perfetto, c'è stato spazio per Cengheglia di rientrare in materia un po' di più, dopo un inizio comunque ancora un po' difficoltoso, nel secondo tempo l'ho già visto più sciolto, sta tornando nello Cengheglia dominante che abbiamo visto dalla parte iniziale della stagione, senza dubbio, e poi mi è piaciuto molto la prova di due giocatori, in particolare un mascolo vicino alla tripla-tripla, addirittura alla tripla-tripla, alla tripla-doppia, più che altro, perché la tripla-tripla è qualcosa di diverso, la tripla-doppia con otto punti, sette rimbalzi, e otto assist, ventidue di valutazione, e una gara veramente di grande livello, di grande profilo, quella di mascolo, e poi mi è piaciuto molto Lomash, dieci punti, quattro su quattro al tiro, e davvero una bella tecnica di tiro, credo che possa, bisogna, insomma, se riesce a mettere davvero questo tipo di tiro, anche magari in contesti dove ha magari meno minuti, e ha solo quell'opportunità, può essere un'arma notevole, anche questa, per la Virtus. Buona la prova anche di Zizic, ha avuto tanti minuti, visto che non c'era Dunston, e devo dire ha giocato bene, soprattutto nel secondo tempo. Per Treviso, salvo solo il finale con i giovani in campo, Torresani soprattutto ha combattuto, ha segnato, ha preso anche qualche fallo, ha tentato comunque un minimo di pressione, Treviso che mi è sembrata veramente in difficoltà, comunque la vedremo poi nel resto del campionato, in questa volata finale, ma per quello che si è visto ieri, trovo un gruppo, veramente, con pochi a tu, per cercare di lottare, per il traguardo fondamentale, di mantenere la categoria, che credo che insomma, sia qualcosa di molto importante, in una piazza calda, avete visto il pubblico comunque, molto emotivo, molto coinvolto, in quell'inizio di partita, nella quale invece, la formazione di Frank Vitucci, sembrava poter giocare un ruolo, poter essere una competitor reale, per la Virtus, ora, campionato settimana prossima, gara, ecco, l'altra cosa importante che volevo dire, è la Virtus, la forza mentale, lo scorso anno, proprio il palaverde, non so se si chiama ancora palaverde, Treviso in ogni caso, fu il campo, nel quale, si consumò il delitto perfetto, che portò poi, sostanzialmente, a perdere il campionato, ovvero, quella sconfitta inopinata, contro Treviso, allora, allenata da coach Nicola, lo sfondamento, fischio arbitrale, qualche dubbio, e Virtus, che butto via, la possibilità, di avere il vantaggio, del fattore campo, nella finale, ecco, l'anno dopo, tornarci, e vincere, in questo modo, con questa chiarezza, con questa, forza valanga, credo sia un'altra prova, di quanto davvero, di testa, questa squadra sia cambiata, di quanto il merito di coach Banchi, al di là di tutto quello che vogliamo dire, di tecnico, sia proprio il merito, di aver messo, l'entusiasmo, in testa i giocatori, e di aver messo davvero, gli fa, probabilmente, è riuscito a entrargli dentro, a fargli capire, che, sono giocatori forti, e che è una squadra forte, crede davvero, in questo progetto, e coach Banchi, sta facendo un lavoro, che va oltre, assolutamente, ogni limite, anch'io che sono un suo tifoso, l'avevo detto subito, nel video, quando era uscita la notizia, quest'estate, ma, devo dire, sta andando, anche al di là, di quelle che erano, le mie, le mie previsioni, le mie speranze, per il suo, per il suo arrivo, stiamo alla prossima, in campionato, per la Virtus, c'è Scafati, gara molto interessante, anche questa, anche Scafati, lo scorso anno, vinse proprio, una partita, a Bologna, molto importante, una di quelle, che determinarono, poi, di non avere il vantaggio, del fattore campo, Scafati, in un discreto momento, sarà una partita, piuttosto interessante, prima però, c'è l'Eurolega, il Monaco, l'avversaria, una sfida diretta, anche per cercare, di mantenere il posto, nelle prime quattro, che sarebbe un ulteriore, grande risultato, in questa bellissima stagione, fatemi sapere, ragazzi, come vi è sembrata, questa partita, e soprattutto, lanciamogli un pronostico, chi retrocede, tra Pesaro, Treviso e Brindisi, io, nonostante tutto, do un Brindisi che si salva, e vanno giù, Pesaro e Treviso, ditemi voi un po', anche la vostra, intanto, vi ringrazio, vi saluto, iscrivetevi al canale, ci sentiamo in settimana, e fate iscrivere i vostri amici, aumentiamo sempre di più, la nostra comunità, un bacio, ciao!